Si spezza nella vigilia di Pasqua l'imbattibilità casalinga del Cosenza. Almarulla passa il Lecce per 4-3. I pugliesi sono i primi a farlo, dopo quasi un anno, a pesare come un macigno sulle spalle rosso-blu. La poca attenzione è in fase difensiva, appunto. La prima sconfitta casalinga arriva al termine di una gara incredibile, ricca di gol, occasioni ma anche imprecisioni da una parte e dall'altra. Un festival che chiude in maniera spettacolare la 28esima giornata di Lega però. Un turno in cui il Benevento conferma la supremazia sbancando Castellammare di Stabbi e il Foggia fa un bel favore al Catanzaro battendo il Monopoli. Le Aquile Gelorosse spezzano l'incantesimo infilando il primo successo del 2016 sul campo della Lupa Castelli e restano davanti al Catania e ai pugliesi. Dall'altra parte della classifica e dopo il capò contro i Salentini, i Silani perdono così la quarta piazza dove adesso c'è la Casertana, reduce dal poker, rifilato all'Akragas. Insomma, la giornata pasquale ha rimesso tutto, quasi, in discussione e sabato si ritorna in campo. Il Cosenza sfiderà a domicilio il Monopoli, un match a cui guarderà con attenzione il Catanzaro di Alessandro Erra impegnato domenica a Messina. Alessio Buompasso per la CNews24